Scusate per la mia vita Scusate per la mia vita Allora, sono state riuscite per la mia vita e per la mia vita e per la mia vita mettevano 10 minuti e inizia a andare a cuocole di testa e mi dice che qui sarà un cittadino e inizia ad andare a cuocole di testa e mi dice che è già un po' troia chiamale, non voglio tenere da sola chiamale, perché troia e inizia ad andare un po' fuori di testa dopo 40 minuti ma ospita... un'incidenza prendiamo l'ultima seggio via per riscendere vale 3152 metri e attività e io che e io